E' tanto tempo ancora per disfare il mondo Per cercare in fondo una ragione di più Per contarle il sel, per mutare il fel Non buttarlo via Cause this I can't never betray Nella notte Quando gira il vento, credici Può cambiare anche per te Live together Cristina Toccate, gruppo hip-hop ASD Accademia Passi di Danza di Anna Biase, 12-18 anni Hey, 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 what you say? Get this on it If you say, what you gon' do today? Just say, hey, I wanna get paid Hey, 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 hey We dedicate this to these people out here getting rain Where the pursuit of the party is reality Never for no look like that you can't evaluate See I got things out here I didn't situate I got a fresh ass car with some lost pain People walk around the street until they stay stay I got accountants out here having big things As I sit into the crib with the sashay And we're going with the shot with the big tank Don't get back cause some people think you just came Hey, 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 hey What you say? Get this money Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Feel alright you got to dance all night you got to Bello! Bello! Ecco, non dimentichiamoci l'hip hop da dove viene. Esiste anche l'old school, l'house e tutto quello che oggi noi vediamo, il 99% è tutto di new school. E questo invece è da dove parte l'hip hop. Lo fate bene? Pulito? Bello! Sì! Grazie! Vi aspettiamo in semifinale, grazie. Solisti, Aurelia Esposito, 13 anni, SD Rose Ballet di Vincenza, 23. Grazie! 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 Grazie a Aurelia. Facciamo accomodare Maria Sole Frigento, 15 anni, stessa scuola SD Rose Ballet di Vincenza Ventre. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Aurelia. Grazie a tutti. 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 Ok. Allora... Vai, vai Marco. Grazie a tutti. Con... Allora... Vai, vai... Vai Cristina. Allora... 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 Ci avete ancora tanto da lavorare. Forza Team Campana, andiamo avanti. Grazie, il microfono mi ha aperto per favore. Gruppo Modern, Miro Club di Miriam Mazzola, 15-27 anni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.